Amici di Pegispa Poi buongiorno. Sempre a leggere il giornale. Ho cascato con il giornale mentre leggevo e me si è infilato dentro il giornale. Sto giornale che giorno è? 12 ottobre, parliamo di questa situazione, 12 ottobre. Cominciamo da quelli perché quelli sono clamorosi. Un attimo faccio il giornale perché facciamo tutti i fenomeni col giornale. Valerio mi ha chiamato e ha detto vi ho trovato i due che stanno sotto. E io dico Valerio ma questi pure sono clamorosi. Dopo vi passo il telefono a Valerio perché io ero venuto a vedere questi. Aspetta un momento ho perso perverso. Eccolo. Ci stiamo parlando. Che cos'è questa? Qualità. E' qualità. E' qualità. E' qualità. E' qualità. Non ti ricordare così Oriolo? No. E' troppo scomodello. E' abbastanza. Abbastanza scomodello. Ma che cos'è quello? Questo a testa in giù. Sì. A testa in giù. A testa in giù. Quindi salutiamo. Basta leggere il giornale. No. Sto a perdere il piaccio. Pensa dentro l'occhio. E fanno male? No, no, no. Dai raccogliamo. Ciao ragazzi. stimulateciare il bilateral effort morality. No. bi... Nova. La port alla servietta. Non.